Sicuramente un piacere e anche un onore per il Ministero essere presente a questa conferenza. Noi siamo direttamente coinvolti con il mondo della ricerca come soprattutto agenzia di finanziamento, ma non solo. L'importanza oggi è confrontarsi per capire come i finanziamenti che abbiamo messo in atto soprattutto tramite il PNRR per potenziare le infrastrutture possano essere effettivamente una risorsa per tutto il mondo della ricerca in modo da presentare un sistema interconnesso, come dice la conferenza di oggi, e potenziato che porti l'Italia sempre più in uno strato di ricerca di frontiera al pari se non sopra le altre grandi realtà internazionali con cui i ricercatori si confrontano quotidianamente. Grazie per la visione!